Vedo il comunità siamo già in comunicazione, in dialogo con la soprintendenza per la rivelazione di questo tratto che è comunque un tratto già conosciuto, è già diciamo nelle carte, nelle mappe comunali. Infatti noi vorremmo sapere perché è stato dato il permesso di costruire qui come in tanti altri posti, per esempio per la costruzione della bretella e vorremmo sapere come verrà preservato questo tratto perché traslarlo cosa significa? Usare delle tecniche che comportano comunque un costo più di questa palazzina che verrà costruita. Qui ci sono varie responsabilità, l'urbanizzazione di Pesaro è stata diciamo la nemica dell'acquedotto romano, noi avevamo un acquedotto all'aperto a Pesaro e più o meno 50 anni fa, 70 anni fa è stato distrutto per la costruzione della via Flaminia. E quindi noi vogliamo rompere questa tradizione, vogliamo preservare un acquedotto che ci serve da 2000 anni e che serve ancora a Pesaro. Non solo quando i tedeschi hanno bombardato Pesaro e quindi è rimasta l'unica fonte accessibile d'acqua, ma anche adesso rifornisce le varie concessioni balneari e le fontane di Pesaro. Si può ripensare il progetto della palazzina per metterlo sotto una teca e per renderlo visitabile. È chiaro che bisogna far confluire gli interessi della costruzione della ditta che comunque purtroppo non è stata avvisata con gli interessi della tutela del patrimonio storico. La domanda mia è come hanno fatto circa negli anni 1970 a poter costruire tutta la zona, Loreto, Montegranaro e Muraglia praticamente con l'acquedotto sotto i piedi. Se all'epoca hanno cercato di preservarlo e poi ci sono i vincoli ovviamente che il PRG rispettati o non rispettati, allora perché ora non può rimanere lì? Noi teniamo molto a dire che questo tipo di manifestazioni non sono fatte per entrare in guerra o in conflitto con le istituzioni, ma al contrario per creare via via un dialogo con esse, per porci come consulenti, per lavorare insieme per salvare una Pesaro antica che attualmente è abbandonata e trascurata e che però presenta architetture e valori culturali assolutamente da salvare. Insieme ce la possiamo fare. Grazie a tutti.